...negato camminando sulle acque di Milano-Maritti, ma non mi stupirebbe vedere un titolo del genere, non dobbiamo avere paura, abbiamo paura di Renzi, ma minimamente, ho paura dell'economia. Renzi per me non è pericoloso in quanto autoritario, è pericoloso in quanto incapace, è più pericoloso un incapace che un autoritario, che stile minga boom, questo sa di non essere...